Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 dicembre, è domenica, domenica 9 dicembre. Allora, i temi di giornata sono diversi, ma quello che forse mi ha affascinato più di tutti è Repubblica. Repubblica di oggi parte dal seguente titolo che vi voglio reggere letteralmente. Fascisti, un italiano su due ha paura. Poi si sfoglia, si va a pagina 2 di Repubblica e dice che il fascismo è un pericolo per il 46% degli italiani. Quindi in realtà uno su due ha paura e uno su due lo considera un pericolo. Quindi le due parole chiave sono pericolo e paura. E quindi la campagna di Repubblica dove 12 cretini mascherati sono andati là con i fumogeni, che è una campagna che è partita, hanno Ministro Minniti, Presidente della Repubblica, Dio in terra, sono scesi per dare una mano a questa Repubblica, spaventata da una manifestazione con quattro fumogeni di 12 cretini. Mentre quando ad avvenire, che non è un giornale che mai fa grande simpatia, nel giorno della morte di Eluana, che vi ricorderete è stata spazzata e riempita di merda, la sua facciata, non ci fu nessun Minniti, nessun Presidente della Repubblica. Però quando arrivano 12 fascisti davanti alla Repubblica succede la fine del mondo, quando invece centrici sociali, comunisti, bandiere rosse, girano e distruggono la nostra società, zitti e muti. Però il problema è che Repubblica questa cosa ce la sta menando da una settimana, forse alla ricerca di qualche copia. E oggi fa fare un sondaggio da Diamanti, per cui, secondo il titolo di pagina 1, scusatemi sabato, giovanella, scusatemi sabato, detto domenica, secondo il sondaggio citato in pagina 1, fascisti, un italiano su due ha paura. Poi io leggo le prime quattro righe di Ilvo Diamanti, che è il giornalista che ha commissionato, che ha fatto il vantaggio, che elabora il sondaggio, e che non ha commissionato, ma ha commissionato Repubblica, e leggo che il 46% degli italiani ritiene che il fascismo sia molto o abbastanza diffuso in Italia. Allora è un po' diversa, scusatemi. Cioè, il sondaggio dice che il fascismo, secondo, in gran parte, come c'è scritto nel sondaggio, persone di sinistra e giovani, è diffuso in Italia. Quindi non che fa paura o che è un pericolo, peggio ancora. Cioè, è diffuso, ma è un po' diverso rispetto a quello che c'è scritto nella prima pagina del giornale. Potrebbe esserci qualcuno che per paradosso consideri diffuso il fascismo ed essere soddisfatto del fascismo diffuso. Va bene? E questa è una cosa straordinaria. Invece, la Repubblica titola pagina 1 e pagina 2 perché deve fare come quei giocatori che cercano il calcio di rigore, insomma, deve far finta che ci sia un attacco fascista in corso e lei ne è vittima. Se voi vedete, in Italia ormai il fascismo è diventato un insulto che vale per tutti. Sei un fascio vegano, dice i nazi vegani, definisce Cruciani quelli che, ispirandosi a Pol Pot, non vogliono e hanno un atteggiamento, diciamo, non democratico nei confronti di chi mangia la carne. Ma cosa c'entra Pol Pot con i fascisti e con i nazisti? Cioè, non si dice i comunisti vegani, non si dice un atteggiamento comunista, non si dice un atteggiamento fascista. Scritto bene l'altro giorno Vittorio Feltri, che tra i due pericoli, quello fascista e quello comunista, certamente quello comunista è ben peggiore. Ma questo poi ha un suo corredo, sempre, il pericolo fascista. Prima si evoca il pericolo fascista, poi si cade in area di rigore facendo finta che qualcuno ha fatto un fallo, e poi si intervista la Boldrini. La Boldrini è la ciliegina, se mi permette, non è un atteggiamento sessista, sulla torta, è un modo di dire, potrebbe anche essere un uomo la ciliegina sulla torta, dovremmo chiamare in futuro il ciliegino sulla torta. E lei che cosa fa? In una pensosa intervista, sempre su Repubblica, i valori antifiescisti dovrebbero essere condivisi da tutti. Poi però, leggi nell'articolo, i valori che dovrebbero essere condivisi da tutti sono quelli della resistenza. Eh no, eh no, io non li condivido i valori della resistenza. A me i valori di resistenti comunisti che hanno commesso stragi in questo paese, io non li condivido, non li condivido come i valori fascisti, ma non condivido neanche il nuovo fascismo rappresentato dalla resistenza ideologica che io ho il coraggio di definire tale e quale al fascismo post-comunista. Poi c'erano ovviamente i resistenti liberali, i resistenti bianchi, che i fatti furono praticamente tutti fatti fuori dai resistenti comunisti che volevano, con una rivoluzione diversa e opposta rispetto a quella fascista, fare arrivare questo paese nel blocco sovietico. Sono ben contento che quei valori della resistenza, cara Boldrini, abbiano perso, che sono i valori del comunismo. Bene, è un problema poterlo dire, secondo me io non mi riconosco nei valori della resistenza, posto che poi abbia ancora un senso dopo 70 anni rivolgersi e riconoscersi in qualche valore. Sondaggi oggi del Corriere della Sera, straordinari i numeri del Movimento 5 Stelle che va al 29,1%, il centrodestra tutto unito al 36%, il che vuol dire che in questo centrodestra Forza Italia ha quasi 17%, il PD scende al 24,4%, quindi terza forza politica, e la lista uguali e liberi, liberi e uguali di grasso al 6,6%. La considerazione che mi viene da fare è che però unendo la lista di grasso al PD si arriva circa al 31,5% e quindi il PD in realtà rispetto a giugno, si vede dalle tabelle del Corriere della Sera, tutto unito avrebbe fatto un piccolo passo avanti. Straordinaria la storia di oggi tenuta in piedi da Divico e da Mattia Feltri sulla stampa riguardo al Capodanno del 2014. Tre anni sono passati dal fatto che 886 e 83 vigili urbani non si presentarono al lavoro il giorno di Capodanno. Si fece anche una pagina Facebook invitandosi a darsi malati, pagina Facebook che poi non è stata prodotta perché l'hanno immediatamente cancellata. Bene, sapete che cosa è successo? Che un medico che ha in maniera telefonica permesso a uno di questi vigili di non presentarsi e gli ha fornito il certificato medico, questo c'è scritto nel pezzo di Divico, bene, è stato assolto perché si tratta di fatto lieve e soprattutto, come leggo nel pezzo di Feltri, di Feltrino, tutto sommato non poteva sapere se è fidato il medico di quello che gli diceva il vigilo urbano al telefono e quindi non poteva che certificarlo. Un paese in cui tutti i giorni facciamo onestà e onestà dei valori dell'antiresistenza, del fascismo, eccetera, nella città principale che 883 persone si diano malate, 767 si diano malate e altre 80 o 90 non si presentino al lavoro con scuse più o meno valide, è una roba che dovrebbe far scendere sotto al Campidoglio i cittadini romani con i forconi, con i forconi, non il magistrato che li assolve perché di lieve entità dopo tre anni. Bisognerebbe farli scendere, ci vorrebbe un'amministrazione comunale che questi 883 vigili urbani in maniera fascista, come direbbe uno che si occupa di diritti del lavoro di sinistra, li licenziasse tutti. Ah no, ma io stavo veramente male, mi spiace, stavi veramente male, sei caduto in questo casino. Poi a forza di pensare che noi dobbiamo garantire diritti sul lavoro, noi ci stiamo dimenticando che questi diritti del lavoro sono pagati dai contribuenti e che i contribuenti pagano diritti per avere invece schiaffi in faccia. 883 persone che non si presentano il giorno di Capodanno, anzi licenziati tutti tranne quelli che il giorno prima o il giorno prima ancora non erano stati considerati malati. Punto, va bene? Punto. Poi dopo, senza ricorso al giudice del lavoro, ascoltando per esempio il pezzo oggi stupendo fatto sul Corriere, sulla Sole 24 Ore da Falasca, sul diritto del lavoro, in cui è passata una normetta in commissione lavoro nei giorni scorsi in cui si dovrebbe raddoppiare l'indennità di licenziamento illegittimo, quindi portarla a otto mesi, rendendo il nostro sistema ancora più rigido di quello che è. Come spiega bene Falasca, la Jobs Act e la Forneno non hanno reso più libero il mercato del lavoro italiano, che resta ancora incriccato in una serie di norme tali, per cui non si riesce più a venirne a capo. Bufala delle bufale, è una cosa incredibile questa roba di Biden, vicepresidente degli Stati Uniti, che in un pezzo su Foreign Affairs, che poi viene tradotto dalla stampa, riportato dalla stampa, dice che ci sarebbe stato un condizionamento dei russi per il referendum costituzionale del 4 dicembre, mi sembra 4 dicembre fosse, di un anno fa, di 6 dicembre, di Renzi, che ha perso sonoramente, e poi ci sarebbe un'influenza dei russi nei confronti di Movimento 5 Stelle e Lega. È una delle bufale, più bufale che bufale non si possono, semplicemente perché non abbiamo una prova di quello che sta dicendo Biden, non ce n'è una, mentre alcune prove ce le abbiamo, di condizionamenti da parte degli americani affinché passasse il referendum. Le visite alla Casa Bianca, l'endorsement di Obama, cioè il presidente del signor Biden che oggi si piagnucola sugli interventi. Secondo questo costrutto, oggi mi sembra che lo porti qualcuno, forse lo scrive lo strillone del Movimento 5 Stelle, che si opera sempre quando attaccano il Movimento 5 Stelle, dunque travaglio, i russi avrebbero condizionato la Brexit, avrebbero condizionato la vittoria di Triumph, avrebbero condizionato tutto il mondo e condizionato da questi russi e da questi hacker russi. Mi sembra un po' una fandonia che si tira fuori quando non si riesce a spiegare la propria sconfitta, cioè la propria incapacità di capire cosa dice il popolo. Io trovo incredibile questa storia di Biden e sul fatto che si dia ancora ascolto, le vere cose incredibili sono le finte armi di distruzione di massa di Saddam, che gli americani, non è che io abbia antipatia con gli americani, figuratevi un po', ma insomma adesso questa grande storia dell'establishment americano, per cui sono i russi a condizionare tutto, mi fa davvero ridere. E soprattutto poi dopo il Corriere della Sera, allega come prove definitive, ma insomma a corredo di questo interessamento dei russi per i leghisti e i 5 Stelle, una foto di Grillo che parla a una tv russa, e ancora una foto di un deputato di Grillo che va al congresso dei russi. E allora una foto, e ancora una foto di Salvini con Putin. Ma Putin non è al capone. Il congresso russo non è il congresso della cupola mafiosa di Palermo, cioè è una delle più grandi nazioni del mondo, è una di quelle nazioni che sta lottando contro l'Isis, è una di quelle nazioni che ha un peso geopolitico in Europa sempre maggiore, è uno di quei paesi che grazie al suo intervento ha cercato di uccidere lo Stato islamico, lo Stato fondamentalista, non riesco a capire quale sia il problema. Ma poi dopo si possono fare tutte le critiche di questo mondo a Putin, ma così come le si possono fare a migliaia di visite di Stato che continuamente i nostri Presidenti, i Consigli e i Ministri fanno in tutte le parti del mondo. Intervista a Giovanotti oggi sul fatto quotidiano della Fagnani, l'unica cosa che mi diverte è che lui nel 2008 concede la sua canzone mi fido di te a Veltroni, vi ricorderete il Veltroni del Lingotto eccetera, e oggi si dice pentito, ogni cantante è pentito a modo suo, dei suoi endorsement politici. Quando sono in grande auge i cantanti, gli intellettuali, i VIP sono con loro, Pif, Lapo, come si chiama quell'altro, tutti sono in grande, chi era l'altro che ha fatto il distingo da Renzi, in questo caso invece da Veltroni. Poi quando il Veltronismo, il Rensismo crollano, ovviamente loro diventano improvvisamente pentiti di aver concesso le loro canzoni. Buona domenica per domani e buon fine settimana da oggi, ve lo auguro a tutti quanti voi, vi ricordo di condividere sempre il mio video e la nostra zuppa e su nicolaporro.it avete un sacco di altre informazioni. Ciao!